direi che... Prima posso dire una cosa volevo spezzare una lancia per un'altra outsider cioè l'outsider principale è il Vietnam ma c'è un'altra outsider che sta performando molto bene che è la Georgia, testa di serie 32, si trova all'undecisimo opposto, ha pareggiato con l'Iran ha pareggiato vediamo la Georgia, Claudio così vediamo poi... La Georgia l'ho messa qua, è in primo piano vediamo che ha... Soltanto Giobbava di nomi proprio importanti però ha battuto l'aspetto sono tutti giocatori Iran e Inghilterra sono tutti giocatori molto esperti è tutta la generazione di Giobbava Giobbava, Paikaze, Pansulaia Cedlishvili sono tutti giocatori della generazione di Giobbava Giobbava chiaramente è stato il più forte in quella generazione e l'unico un po' più giovane credo che sia a Caciarava e anche qui ordine tattico con Giobbava in quarta che è il giocatore più rappresentativo che finora sta facendo 5 su 6 lui sempre diciamo durante le Olimpiadi e durante gli incontri a squadre dà il massimo ricordo gli anni in cui lui era proprio sulla cresta dell'onda in cui la Georgia era pericolosissima proprio per la classifica generale magari non per vincere le Olimpiadi o gli europei a squadre ma una squadra che poteva arrivare facilmente nella top 10 o top 5 del torneo quindi sono abituati a giocarsi tanto sono giocatori esperti su tutti i stati abbondantemente sopra il 2006 il 2006-50 è un momento diciamo in cui hanno perso un po' di smalto magari nei tornei individuali non trovano quello stimolo ma quando anche loro molto uniti un gruppo molto forte quello della Georgia come l'Armenia d'altronde è brutto che questi paesi fra di loro non ci siano molto compatti dei conflitti in corso ma diciamo sono invece molto simili come atteggiamento molto caldi fra i popoli diciamo orientali e quando si tratta di giocare le competizioni a squadre viene fuori questo attaccamento alla maglia che è pazzesco sì mi ricordo anche per fare un esempio è un po' fuori contesto però agli europei di calcio c'era una compattezza un tifo enorme per la squadra c'è proprio un senso di appartenenza veramente grande per quello che riguarda queste squadre secondo me la difficoltà è riuscire a far risultato nelle prime due scacchiere ma se per dire prendi morale perché dopo le prime 10 15 mosse hanno retto i primi due e dopo si caricano anche secondo me è proprio difficile da passare da passare perché qua adesso vediamo nel match presi singolarmente hanno perso sempre in prima scacchiera nei due match finiti 2 a 2 e era immediato in una giobbava nell'altro panzulaia a me queste formazioni mi fanno impazzire quando c'è proprio la compattezza il senso del gruppo che va oltre l'ostacolo è cosa che riesce a un'esercizio un'esercizio